Nella notte il soggetto ha confessato l'omicidio che ha commesso in danno di Daniele De Santis e Ornella Amanta. I motivi della confessione, il movente onde evitare derive, dico subito che non è stato esaltato un movente passionale. È da ricercarsi all'interno della coabituazione che ha avuto assieme a Daniele De Santis e a dell'Onora Amanta. Una coabitazione comunque non continua, nel senso che lui occupava una stanza all'interno di questo immobile, ma Daniele e dell'Onora di tanto in tanto dormivano in questo immobile. Verosimilmente qualcosa gli ha dato fastidio. Questo qualcosa può essere ascrivibile ad un senso di invidia, una gelosia per la felicità, la gioia di vivere, la solarità di questi due giovani. Che probabilmente non riconosceva in se stesso, nel suo comportamento, nel suo temperamento, nelle poche amicizie che aveva. Situazione interiore che poi è culminata in un'azione vendicativa, al punto tale da predisporre nei minimi dettagli il piano per portare a termine, come poi ha fatto, il duplice omicidio.